Queste quattro sedie vuote per chi saranno? Per loro, vi chiamo subito, senza esitazione Giussi Buscemi, Gianmarco Fuzzoli Daniele Liotti, dietro la nostra ruota I protagonisti di Un pazzo dal cielo, benvenuti, accomodatevi ragazzi Giussi qua, Gianmarco là Grazie Daniele, bentornate Ce l'aveva promesso che sarebbe venuto ancora una volta a trovarci Ogni promessa è un debito La seconda volta che torno, io che non sono un amante delle presenze televisive Lo so, e lo so che ti sei divertita Ma non potevo, io non potevo, capite? Sono anni che ci provo ad avere una reunion E c'è anche lui Enrico dalla Spagna, Enrico Ianiello Dove sei? Dove sei? Mi vedete? Eccolo là, ti vediamo, ti vediamo In versione XXL, guarda che bello Comodo è? Da casa, lì, stai bene, no? Fantastico Ho solo dovuto comprare una pianta per fare un po' di santa Per il collegamento Ha un passo dal bosco Stai bene, Enrico? Ti vedo in forma Sto benissimo Sto molto bene, sono a casa Sto lavorando qui da casa alla mia altra passione che è la scrittura e al teatro Poi ci spieghi perché stai là Poi ce lo spieghi perché stai là Prima però ricordiamo al nostro pubblico a casa Che intanto complimenti Grande successo anche per questa edizione È andata bene È andata bene È andata bene, sta andando benissimo Sto andando benissimo Tra l'altro sono passati anche dieci anni Fasi imbecchione Oh, Henry, fai poco lo scherzino, eh? Perché tu, insieme a Gianmarco, siete imbecchiati su quel set Siete imbecchiati Avete compiuto dieci anni di serie ieri Auguri, auguri, capo mio Capo mio La vera coppia del film siamo noi due, della serie Ah, sì, 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 io lo so E noi sceleriamo però a quello che succede Esatto, non diciamo che siamo così anche nella vita Non diciamo No, no, ma diciamo invece tutto Anche perché l'ultima volta ci siamo lasciati con delle immagini forti Pregherei Daniele di commentarle Perché è il suo forte Meravigliose Quali erano? Ah, le mie del mio passato No, ma sempre lì a un passo dal cielo, per l'appunto O dal burrone, non lo so Le immagini sono queste Per fortuna c'eri tu C'era Francesco Per fortuna perché lei si stava schiantando Giù da un burrone Era legata in un'auto Ma C'è una cosina, sì Certo Ma E andiamo Eccola Non male che io a quell'ora ero in sauna Perché se no Avrei avuto un colpo al cuore Nella scena Nel momento prima che arrivasse quell'elicottero Io e Enrico Eravamo posizionati Prima di partire Nell'elicottero E lui mi confida Daniele Io sull'elicottero non ci sono mai andato Ci sono mai andato E io gli ho detto Tranquillo Guarda alla fine Un po' più o meno Sarà come una Una gincana Sarà come le montagne russe Ma sì Daniele hai ragione In effetti così Il pilota Tututututututu Fa partire l'elica Sale Come sale C'era tipo una gula Un dirupo di Quattrocento metri Va giù così Mi giro verso Enrico Stava così Stava così Vero Enrico? No non è vero Non è vero Grazie Guidava lui Guidava lui E io non c'ero Esatto Grazie emozioni Perché Voglio dire Deve succedere per forza qualcosa Gianmarco Se non muore qualcuno Se qualcuno non sta in azia Ma che noia Come fanno le signore da casa Tutto tranquillo Invece no Bisogna Poi voi speravate Di esservelo tolto di torno Io no Io rinuncio alla polizia Io rinuncio Io no E invece E invece Niente Ho deciso Attenzione Attenzione Tutta la serie Non si sa Non si saprà Se Francesco Neri Rimane o parte Tanto che il mio cavallo È sempre pieno di bisacce Di borracce Per ogni emergenza Sta sempre con un piede qua E un piede là Capito? Quindi infatti ogni volta Devo girare Ragazzi Ma perché mi mettete Tutte queste cose Bisacce Zaini Perché non è detto Ma cos'è che ti trattiene Allora? Cos'è che ti trattiene? Cos'è che ti trattiene? Cos'è che si trattiene? E le donne? E una è ferita L'altra è una bambina Un'altra torna Dopo un sacco di tempo Non ti vedevamo Non ti vedevamo sul set Di un passo dal cielo Da un sacco di tempo Lei Ragazzi Fatemelo dire Sembra essere l'unica Essere ringiovanita In the middle Ma no Non è vero Nel frattempo Perché ti sei fermata Per un po' di tempo? Non hai fatto più nulla? Allora Mi sono fermata Insomma Sono stata lontana Dal set per tre anni Bella questa domanda Tra bocchetta Cosa vuoi farmi dire? Due motivi Ha due motivi Ha due motivi Perché? E lo so E lo so Voglio che me lo dica lei Diggili tu Perché nel frattempo Sono diventata mamma Di due Di due bambini Ancora piccoli Tre anni e mezzo Un anno e mezzo E quindi Possiamo dirlo che è il padre? Possiamo dirlo? Non gli so Non credo che tua moglie Sia d'accordo Dicendo questo Non lo so Ma io e Jan Siamo amici Quindi magari Sai lui è Sempre via sul set Il tuo è rosso finto però Il mio è rosso finto Però uso delle tinte Sono sempre così Sempre così Infatti è difficile Rimanere sedi sul set Quando c'è Gianmarco E' meno male Davvero E ho le prove E ho le prove Ascolta Giussi Ma avevo letto da qualche parte Che tu Insomma la mamma la volevi fare Ma addirittura È vero che hai detto Ho di otto figli? Allora Allora Non sono più io il padre Non sono più io Non sono più io Non sono più io Allora questa è un'intervista Che ho fatto diversi anni fa Sì Prima ancora di sposarmi Quindi quando ero fidanzata Mi hanno detto Ma idealmente Quanti figli vorresti avere? Allora scherzando Con la giornalista Abbiamo detto Beh otto figli Ma Poi diciamo Ho iniziato ad avere Il primo figlio Il secondo E oggi dico Non lo so Vediamo Vediamoci Allora Io ho risolto con i lupi Io ho preso sei lupi Oltre i tuoi figli Nella vita C'hai sei lupi Sul set Mi sembra giusto Però io voglio rivedere Un momento che per te È stato di svolta Qui le ruote girano Qui raccontiamo I movimenti di svolta Della nostra vita Soprattutto professionale Quella che ci permette Di realizzarci E c'è stato un momento In cui Fabrizio Frizzi Ha parlato con te Così Numero 45 Giussi Buscemi Miss Bella Professional Alza Sicilia Dunque Hai detto È una dichiarazione Bella ma impegnativa Di avere le stelline Negli occhi Che cosa significa? Beh in realtà Premetto che non l'ho detto io Mi è stato detto Da una persona Nel senso È stato un consiglio Che mi è stato dato Secondo lei Devo continuare Devo studiare recitazione Perché Dice che trova in me Queste stelline negli occhi Io credo che a volte Gli occhi possano Dimostrare di più Delle parole Quindi Sei la Miss Italia Enrico C'è chi c'ha le isole Negli occhi E invece La Buscemi C'ha le stelline Hai visto? Ma la mia In correlazione Come Mister Italia Non ce l'avete? No ma per te Abbiamo un'altra cosa Ripeto Non fare tanto Lo scherzino Perché anche per te La ruota È girata Nella vita Proprio grazie A un passo dal cielo E gira ancora Senti che rumore Che fa Tu hai conosciuto Una persona speciale Sul set Gianmarco No 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 Arriva il sodo Ragazzo Devo dirlo io? Vuoi che lo dica io? Allora io ho conosciuto Moltissime persone speciali Peraltro mi ricordo Di aver arrestato Un'attrice Che ti assomigliava Moltissimo A un certo punto Davvero? E tra le varie persone speciali Che ho incontrato Sì? Ho incontrato Una ragazza Durante la primissima stagione Che all'epoca Si occupava semplicemente Dei cavalli di Terence Hill E siamo diventati amici Poi a un certo punto Abbiamo girato una scena In cui l'attrice Che era Gaia Bermania Doveva fingere Di volersi sposare con me Arrivando a cavallo Con il vestito da sposa Sul cavallo C'era invece questa Fingere Onesto Io sento il mio Bravo 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 Non ti sei montato la testa È un professionista No no Io tutti i matrimoni Sempre per finta Nella mia vita E poi? Molti ma per finta Ed è arrivata Gabriella Che faceva la controfigura Di Gaia a cavallo E con lei invece Non abbiamo fatto finta Perché siamo insieme Da dieci anni Abbiamo un bellissimo figlio Eccola Ed è il motivo Per cui ti trovi in Spagna Sì Mi trovo in Spagna In realtà Perché avevo già Un altro figlio Che adesso ha 17 anni Che viveva qui Quindi per stare con lui Poi siccome ci piace il posto Abbiamo trovato una bella casa E ci siamo stabiliti qui Io lavoro molto anche con la Spagna Quindi faccio avanti e indietro Sono europeo E noi siamo felici che tu abbia trovato la tua felicità Però se ci venissi a trovare Però se ci venissi a trovare un po' più spesso Sarebbe più facile anche farti le interviste Ora tu Giusy Come te lo immagini Enrico Alle prime armi? A te ti abbiamo visto a Miss Italia È stato un momento di svolta nella tua carriera Tra l'altro mi avete fatto un regalo bellissimo Perché io non avevo mai più rivisto quell'intervista Davvero? Sì Non riuscivo a trovarla Quindi È bello Al grande Fabrizio Sì Ma torniamo Enrico Come me lo immagini? Come me lo immagino dieci anni fa? Anche un po' prima Anche un po' prima Me lo immagino lo stesso Cioè? Sempre Guarda come mi guarda che dice chissà che cosa dirà Sempre maschio Sempre maschio Sempre In che ruolo? Bello, simpatico Nel ruolo di Sex symbol Sex symbol? Bravo Ci siamo Ci siamo? Davvero? È una persona seria Lo sapete Lui scrive libri Signori Lui scrive libri Noi stiamo scherzando Ma lui scrive libri Lo sappiamo È il vero intellettuale del gruppo Gianmarco Lo sappiamo Assolutamente Ma lui prende Lui scrive libri dalle nostre storie Cioè lui sul set è curiosissimo Ci chiede mille cose Uguale sapere Delle nostre storie Delle nostre vite Perché attinge dalle nostre storie Per i suoi libri Quindi noi siamo Indirettamente i protagonisti Delle nostre storie Delle nostre storie Questo per dire È uno dei tuoi libri Quello che ha riscosso maggior successo Complimenti La vita prodigiosa Disidoro Siflotin Io ce l'ho Quel libro Scrive molto bene Ce l'ho Scrive molto bene Scrive molto bravo È molto bravo Ma lui del resto Nella vita ha fatto cose come questa Chiove 2007 Te lo ricordi Henry? Eh sì Riguardo Il libro L'isola del tesoro Sì Robert Louis Stevenson Stevenson Questo per cominciare va bene Va benissimo Ti fa pensare a me questo libro Sì un po' sì Perché? Perché? Come perché? Perché parla di gente che rischia Di gente che scopre strade nuove Che non ha paura di scoprirle Però guarda Non ti voglio influenzare con la mia opinione Tu leggilo E poi ne parliamo Vediamo che lettura ne fai tu Sei il mio cliente preferito L'ha detto Sei il mio cliente Sei il mio cliente preferito Ah ok Hai capito com'è a serio Il mio capo Hai capito? Non te lo ricordavi Henry? Grazie È un bellissimo ricordo Sì Perché quello lì È il primo spettacolo che io ho tradotto Che è successo? Perché eri bello No scherzo Scherzo Era giovane Eri giovane Eh sì Eri giovane Ma lì è il primo spettacolo Che io ho tradotto dal catalano In Napoletano Ed ebbe un successo straordinario Chiara Bafti Hai capito? Quell'anno tutti i premi Come miglioratrice di relazione Repubblica titolò In piedi ragazzi In piedi In piedi In piedi In piedi Una mano sul cuore Esatto Grazie Enrico Grazie Grazie Il pavolino di Agnello Grazie Grazie a voi Di Agnello E invece Daniele Come te lo immagini Gianmarco? Gianmarco Prima di incontrarvi sul set di Un passo del cielo Allora me lo immagino Me lo immagino un bambino Non riesco ad immaginarlo più giovane dieci anni fa Rispetto adesso Rispetto adesso L'uso delle creme fantastiche Quindi secondo me lui dieci anni fa era un bambino E vent'anni fa? Un bambino E' sempre un bambino Mi sa che ci hai preso E' sempre un bambino Perennemente incinta Esatto Ti riguardiamo In un ruolo di grande successo Quello del comico Ah Che sorpresa Grazie Scusi Sì Potrei riavere il mio? Perché? E' più bello Silenzio Chi inizia? Prego Sta a lei? E' dei tipi di incredibile Sa cosa fanno due a letto? Venti al chilo La farfalla non è assicurata La vespa sì Hai capito? L'unico che ride è Enrico L'intellettuale del gruppo Però sono io Vedi Sai perché rido? Perché quando facemmo i provini per Uber Questa la devo raccontare C'ero anch'io Mi avevano già scelto per fare i nappi E quando feci il provino con Gianmarco Andai dal regista E dissi Guarda Tutti Ma questo qua no Ti prego Hai capito? Ci vogliono a lungo E siamo diventati molto amici La vera coppia di Un Passo dal Cielo Perché tanto a lui Lui rimane sempre solo A un certo punto Non si capisce come Non si capisce Non si capisce Vabbè io ho i cavalli I lupi Certo Personaggi vari Loro sono Altri partner Altri partner Ascolta Tu sei venuto a trovarci due settimane fa Ci hai fatto un bellissimo regalo Perché ci hai raccontato aneddoti Molto belli Che hanno fatto ridere molto Il pubblico a casa È rimasto così colpito Che noi abbiamo pensato di farti un regalo Per il tuo compleanno Immagino Guarda Non sto nella pelle Che cosa avete pensato? È diffidente È diffidente Daniele Leone No perché l'altra volta Già quando ho raccontato Non mi aspettavo Non sapevo Che avrei dovuto Avrei riesumato quei cadaveri Poi mi sono divertito Per carità Però insomma Adesso temo Temi No ma noi guarda Non potevamo lasciarti proprio del tutto scoperto Tu non hai un buon rapporto con i social Vero? Adesso penserà che io centro qualcosa Ma io non centro niente Ti assicuro Guarda Perché hai detto social Ed è una parola che io gli ripeto spesso Ah sì? Però Non so niente Ho saputo Ho sentito qualcosa due secondi fa Ma tu ci sei sui social? Ci sono appena Sono appena arrivato Ah E come va? E va Dovrei essere più presente Attivo Però piano piano mi sto schillando Guarda ma oggi siamo noi Pronti a darti dei buoni consigli Questo è il tuo nuovo profilo Instagram Guarda Vediamo O Facebook Questo è Facebook Allora Intanto vedi Tutto sta nelle foto da scegliere Certo Tu che cali dal burrone C'è deve stare Certo Il fisico Dici ci deve stare Il fisico ci deve stare E abbiamo messo giusto Le informazioni di base Ma per completare la tua scheda Abbiamo bisogno del tuo aiuto Intanto sei nato a Roma A Roma Sì Confermo Sì Vuoi confermare anche l'età? Il primo aprile del 71 Perfetto È lui Per ora è lui Professione attore E su questa Dubbi Sto cercando di capire Se continuare Vabbè comunque Diciamo che al momento Attore Situazione sentimentale Situazione sentimentale C'è C'è Presente Presente Attiva Attiva Mettiamo la spunta blu Sulla situazione sentimentale Segni particolari Segni particolari Lo devo dire io Ah perché me lo devo scrivere Uno se lo scrive Vedi che non sono pratico Eh ti stanno aiutando Ok Segni particolari Possiamo chiedere alla moglie Sì Chiamiamola Segni particolari Segni fisici O segni di Esatto Ah l'ha detto Enrico Il neo sulla natica destra Ma come fa a saperlo tu? Cosa ha detto? Cos'è? Il neo sul Non ho capito come fa a saperlo Ha detto che hai un neo sulla natica destra No 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 non è vero Non è vero Non è sul neo Sulla chiapa sì però Non è sul neo Si chiapa nati Che non ci sono nei Non ho nei Non ha nei Segni particolari Non ha nei Segni particolari Mi piace fare sportivo Dai una cosa generica Senza me Sono un grande sportivo Si vede Quello possiamo dire Ci abbiamo le prove Ok Mi ridate un attimo per favore La scheda di Facebook Ecco sono fan di Oh sono fan di Sono fan di Un attore Un personaggio Che più ti rappresenta Ah ok Sono fan di Un passo dal cielo Mi sembra giusto Mi sembra giusto Beh Tra l'altro Giuse Dopo che ti sei fermata Sei ringiovanita E sei diventata mamma Adesso vuoi entrare in polizia Già ci provasti Insomma Però c'è qualcuno che non è mai stato d'accordo Con questa città Eh diciamolo Diciamolo Perché Henry Nappi Eh in realtà il motivo L'abbiamo già detto Sostanzialmente Nell'ultima Puntata della serie Perché sia io Che Emanuela Siamo figli di poliziotto E questo poliziotto Non è Insomma Non è finito bene E quindi Io sono molto preoccupato Come fratello Che possa succedere qualcosa Anche a lei Ma vi giuro Che imparerò A togliermi davanti Sì sì Lui ha paura solo di una cosa E ve la stiamo per anticipare Vuoi dircelo prima tu Daniele? Di un amore che nasce? No Ma andiamo un'anticipazione Gianmarco vuoi dire la tua? Ma io sono Allora aspetta Aspetta Vorrei dire io una cosa Vorrei dire io una cosa Posso? Posso Perché tu adesso Sei andata a ripescare un po' Nelle nostre vite Parallele Passate Però forse magari ci vorrei dire anche tu Una cosa No Perché Una tua cosa nascosta Lo vogliamo vedere? Io sulle cose nascoste Non so mai perché Le cose nascoste Allora vediamo Vediamo Signore pietà Scusate ma è meglio se mio padre rientri in casa Sì sì prego Eppure lo sguardo Vabbè che cosa c'è da raccontare Che ho avuto il piacere di conoscervi Di guardarvi lavorare Per pochissimo tempo Per mia fortuna Perché è un lavoro Che vi lascio molto volentieri Ed è lì che vi ho incontrato la prima volta E la cosa più bella e la cosa più bella di tutte è il clima che si respira sul set Siete straordinari ragazzi Grazie L'accoglienza L'accoglienza La professionalità La gentilezza E insomma veramente questa fiction merita perché meritano queste persone Lo dico veramente con Sto è salvata Perché voi avreste qualcosa da dire No è vero No è vero No 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 Ci ha fatto molto piacere Noi ti avevamo vista il giorno che eri venuto a lavorare Eri un po' schiva Stavi un po' per conto tuo Come sempre Come sempre Farà parte del tuo Come sempre Osserva Osserva lei Ma sì ma che davvero io potevo pensare di Cioè vi guardavo cercavo di scopiazzare Te la sei chiamata benissimo Grazie 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 Se potessimo tagliare Questa parte lo farei Anticipazioni della prossima puntata Vediamo Manu Come mai in piedi a quest'ora? Ti ricordi che te ho detto il concorso per la polizia? Sì Tuo fratello ha cambiato idea No no È d'accordo Solo che prima mi devo laureare Così posso tentare il concorso per diventare commissario È stato categorico Il pezzo di carta è la cosa più importante Quindi devo dare l'ultimo esame che mi manca È per questo che sto qui Ah Ogni volta che incrocio Vincenzo per casa Mi tartassa di domande sul codice penale Quindi Diciamo che avrei bisogno di un posticino tranquillo dove studiare Dai Molto chiaro Quindi questi sono per corrompermi Corruzione Viene da uno a tre anni Giusto Corruzione Corruzione è un altro modo per dire amore Innamorarsi Chi lo sa Lo scopriremo nelle prossime puntate Chi lo sa Chi lo sa I colpi di scena sono tantissimi comunque Non ho dubbi su questo Quando uno crederà di aver capito In realtà Non avrà capito Ci sarà un nuovo colpo di scena Tu vuoi confondermi La ruota gira Dicevo come dice Daniele No la ruota girerà tante volte E allora aspettiamo di farla girare Tutti insieme Grazie però di essere stati qui Grazie dalla Spagna Enrico Ianiello Giannale Costano Daniele Liotti Grazie 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 a te Grazie mille Ciao Ciao